luk 43 16 ciao a tutti ragazzi sono luk e sono in compagnia con dark angelus ciao ragazzi e siamo ancora una volta in battlefield giusto perché ho visto che il video precedente vi è veramente piaciuto mille e quattrocento mi piace anche mio figlio di piaciuto vista da esclamando anche lui gioia per questo video bene che facciamo angelo dove sei sono qui il tetto dietro i dragodizionatori ragazzi il video scorso mancava il pezzo della intro non so perché quando salutavamo e quando dicevo chi vuole se chi piace battlefield seguito il canale di dark angelus che lui fa solo battlefield per il momento per ora andiamo verso c dai andiamo a catturarlo andiamo a catturare c ragazzi non era una cosa di cattiveria il fatto che ho investito luk con un caccia il soggetto che mi dà dello stronto e quant'altro è divertente così dai ma perché faccio la x ah ragazzi mi avete chiesto di laggare non laggare per le prestazioni video no no io non laggo per le prestazioni video ma per il ping per la connessione del cavolo che ho c'è sopra angelo preso preso ho fatto una kill errore del gioco sarà sicuramente fermati fermati taccolte no scappato scappato vabbè e otteniamo sta base c'è e oggi che c'è un tipo dietro mi sa ma dove mi sto andando io c'era qua va a farti fottere ti ho appena salvato ma che mi hai salvato a chi lo qua bello tranquillo guarda questo sulle scale questo cos'è un amico nemico cos'è cos'è ah ragazzi lo stesso video lo troverete anche sul canale di dark angelus dalla sua visuale stesso identico video e un'altra cosa non camper oggi oggi non campero no 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 non camperiamo guarda che sto correndo in mezzo alla mappa riguardati il video e vedrai guarda che ti vedo tutto a fianco c'è un tipo che non mi vedi c'è un terra lo voglio fare niente è morto non ho salvato però c'è un tipo la che campera oh no 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 sto per morire sono vivo sono vivo credibile sono morto qua non vuoi fare tu ragazzi intanto sono salito un po di livello e ho un po preso domestichezza diciamo tra virgolette domestichezza ma questa è una g io vado 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 dove vado hai una gip dove sei passami a prendere ecchi te l'ho lì ecchi te l'ho lì sono una fantastica gip mi abbiamo fatto tutte quante le vado dove andiamo eh andiamo in giro a ammazzare qualcuno quello è un carro oh cazzo no 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 scendi corri scendi ok sono scappato il tempo e mi squilla il citofono il cane ok ragazzi scusate mi ha squillato il citofono e abbaiato il cane no ha squillato il cane abbaiato il citofono intanto io ho preso non ho preso niente cos'è sto coso un elicottero perché mi fa salire io ho preso un aereo ah è scoppiato ecco perché dove sei mi passa a prendere con l'aereo ragazzi io dovrei fidarmi no 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 non sei quello non sei quello non mi fido più di arcangelus io dove sei no però non mi venire addosso dai facciamo vedere ai ai genti come l'aereo vedi che monoposto aspetta che atterrò vicino a te così lo prendi tu e vediamo come sembrava guidarlo atterrò vicino a te se mi dici dove stai magari ci sono lo spawn mi vedi mi sto volando col caccio praticamente raso terra io no non ti vedo per niente ora mi hai visto no non ti vedo per niente non vedo il tuo nome oh c'ho l'unico caccia che gira intorno alla base oh ma se non ti vedo non ti vedo c'ho uno che mi saltella davanti sarà mio fan aspetta se sei nemico mi sa eh ma come sono un nemico credo che si ma non ci sei con me vai a far la cacca d'arcangelus ma dove sei? ah e beh sei nemico sei russo per farlo che ti vengo a prendere ma tu russi o io no dove sei a te che arriva arriva eh ormai sto viaggiando non mi fermo più sono in mezzo alle campagne e la fuga sono in mezzo il deserto sono affamato assetato mi hanno sparato con un con un carormato credo crepa infame citazione back quello è di back non puoi non puoi utilizzarlo è un marchio registrato io comunque non continuo a non vederti ragazzi mettete pollice in su al video se vi piace come sempre e e e non mi chiedete minecraft che arriverà anche minecraft tranquilli sciatevi tranquilli sciatevi io ho tre ore che corro come un disperato non so neanche dove sto andando mi stanno bombardando aerei, elicotteri, astronavi, libellule, di tutto mi stanno sparando mi stanno lanciando il ciabatte non sono morto ma 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 io non mi fermerò mai guardarsi indietro in battlefield ragazzi correre sempre dritto c'è uno con la gif c'è uno con la gif come un passaggio pirletta non ti trovo ma io non ti dico neanche dove sono poi non ti hai nessuna squadra ma io sono singolo si non singolo sei in squadra colpo io sono in giulietta sei giulietta? io sono romeo no no grazie no 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 questa cosa non va bene ragazzi mi son fatto tutta la mappa a piedi senza morire guardate che allucinante adesso arrivo lì e muoio guardate ti aspetta un po' ti investo io no no io non ti dico neanche dove sono sono al nostro spawn no ti ho visto che corrivi in mezzo al campo infatti ho provato anche ad investirti no no sono tornato indietro no no ti ho mancato per tipo un mili oh ho un elicottero rianate alla cazzo no no e mi imbosco qui ho un elicottero ma entrate adesso entrate adesso ah quindi succia no no ah si si sono su c come fa a saperlo sono su b ah ha conquistato pirletta no devi mangiare di pasta e fagioli per arrivare ai miei livelli io sono un pro i ragazzi guardate che pro guardate che pro un pro ducazze sono mica una jeep arrivando ti beccherò ma che mi beccherai io sono una fuina sono una fuina ma che scherzi dove diavolo sei sto andando su A se proprio lo vuoi sapere su A perché non si arrampica sto pirla dall'altra parte della mappa ragazzi mi sono fatto tutta la mappa a piedi ma guardate è allucinante mai successo eh perlomeno a me è un maratoneta non mi sono mai fermato chi è questo con me si ti vedo eh no sono morto sono morto sono morto sono vivo forse ti vedo eh questo è maratona simulato 2012 non è non è battlefield stai correndo praticamente da tre quarti d'ora mi sono stancato anche il dito fuori di correre renditi conto non volevo dir tro ma c'è un carro su A mi stanno sparando porca prota io ho appena salvato ma se sei contro di me quando fai salvarmi no sono rispetto a contesto volevo uccidere con un caccio ma ho fallito quindi ho cambiato squadra e sono passato dal lato oscuro della forza olè ragazzi abbiamo la jeep e mo? e com'è la jeep? si è bloccato tutto qua ma sta laggando il sedo lo sto laggando io come il solito ma io a te non ti vede un po' più online sicurati io c'ho la jeep più come non sono online ah ecco ti ecco io no stai pingando 20 non lo stai laggando allora è fra ma dove ti amo sei con la jeep? ma non lo so sono in mezzo alla strada nello stradone o nell'autostrada sono fermati 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 bravo fermati ci sei? dirò di te dirò di te arrivo di te vuoi investirmi ok vai 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 dove andiamo? tutte bloccate sono le bandiere qua abbiamo un carro dietro comunque ma si tranquillo il carro è lento guarda lo salviamo aiuto ti aiuto ti aiuto io ops ma si è rotta la jeep investendolo mi sa che è morto no non è morto è vivo ma la jeep è tipo si è tipo ammaccata madonna che oh sta scoppiando la jeep sta scoppiando la jeep ma non è vero non è vero scendi Angela l'ho riparata l'ho riparata l'ho riparata come l'ho riparata ah tu c'hai il cazzin culo lì va bene eh sì andiamo proprio quello andiamo 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 c'è c'è un carro su di comunque non andiamo guarda di quella civetta no no non vado adesso taglio in qualche campo aspetta ah abbiamo presso c abbiamo presso c destra va destra non sul gara rail tranquillico non so perché ogni volta che lo dici non mi fico ecco abbiamo presso c no siamo morta tu sei morto io no come no tu hai la juliet entra juliet no mi hanno ammazzato mi hai fatto morire bene bene sono morto ancora colpa tua ho fatto una partita di merda no vabbè dai 0-1 minchia dai ma che di merda è ottima ragazzi vi faccio vedere il carro armato e poi direi di chiudere il video mi viene troppo lungo ecchi mechi sono dentro il carro ti vado all'indietro come un pirla ah ma il carro no ma perché il carro non va avanti va solo indietro oh come si guida sto coso perché va all'ilato ma com'è lento a girare ma cos'è sta marionetta guarda che c'è il turbo eh non ricordo quale tasto sia il pad ma c'è il turbo in effetti praticamente aiuteremo shift vado più veloce ma che schifo è sto coso lasciamolo qua basta basta ragazzi basta ricordatevi di mettere pollice in su se vi piace il video iscrivetevi al canale dell'alveare a quello di angelus da luck e da arcangelus è tutto ciao raga ciao a tutti sentivo un aereo ho detto no vuoi che finisce come l'altra volta no no meno male stavolta finisce meglio ragazzi per concludere concludere in bellezza mi uccido ora solo guardate che bella la granata ve la faccio vedere da vicino non fare il kamikaze ogni volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti